Salve a tutti i temati delle storie e benvenuti in un nuovo video. Oggi torniamo a parlare di House of the Dragon, in particolare commenteremo il secondo episodio della seconda stagione. Se vi siete persi il commento al primo episodio della seconda stagione ve lo lascio qui nelle schede. Ho fatto altri contenuti a tema House of the Dragon, li trovate in una playlist dedicata. Li troverete i video commento agli episodi della prima stagione, video approfondimenti e il recap, un riassunto, della prima stagione appunto. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e supportare i miei contenuti se vi piacciono. Vi ricordo anche che potete trovarmi su altri live come Instagram, TikTok e Wattpad. Su quest'ultima piattaforma trovate le mie fanfiction a tema malandrini, ce n'è per tutti i gusti. In ultimo vi ricordo che è da poco uscito il mio romanzo d'esordio, è un fantasy contemporaneo per ragazzi. Cardi è la capitale del mondo magico, protagonista della storia è la principessa di Cardi a Zoe, una giovane 17enne dallo spirito ribelle. Se volete saperne di più vi lascio il video dedicato dove ci sono tutti i dettagli sulla trama e su altri aspetti del libro, se può interessarvi e in descrizione trovate il link di Amazon per acquistarlo qualora potesse essere di vostro interesse. Ma adesso banno alle ciance e iniziamo. Come al solito direi di iniziare dalla parte tecnica che è quella che mi piace di meno e che mi compete anche meno. Non ho molto da dire per quanto riguarda la parte tecnica di questo episodio. In merito alla CGI si è vista molto poco, i draghi si sono visti o da lontano o diciamo in luoghi oscuri, adombrati, che è sempre una buona cosa quando si decide di risparmiare sulla CGI, quindi non ho grandi critiche da fare al riguardo. Ancora una volta, come nel primo episodio, trovo che la regia sia stata piuttosto pulita. In più di un'occasione, infatti, all'interno di questo episodio, la regia avrebbe potuto essere morbosa rispetto alla violenza che c'è stata, ma ha deciso di non farlo. Mi viene in mente l'uccisione di sangue, l'impiccagione degli ammazzatopi, il corteo funebre di Jeris, ma anche il duello finale. In tutte queste occasioni si sarebbe potuto indugiare nella violenza o in aspetti macabri collegati alla violenza. Basti pensare appunto a Jeris e a quello che gli è capitato. Avrebbero potuto mostrarle in modo molto più efferato, molto più disturbante per lo spettatore, ma hanno deciso invece per delle soluzioni un po' più raffinate, che io ho apprezzato, devo dire. Ancora una volta ci troviamo davanti ad un episodio da ritmo lento, tra l'altro è un episodio anche abbastanza lungo, perché dura circa un'ora e dieci. Lento, ma mai noioso, devo dire. Ancora una volta c'è tutta una preparazione, una preparazione della tensione. La guerra si sta ancora giocando sulla scacchiera dei sotterfugi e degli attentati un po' sudoli, se vogliamo. Ancora non si è arrivati alla danza dei draghi veri e propri. I draghi ancora non stanno danzando, ancora non li vediamo scatenare la loro potenza di fuoco. Questo è apprezzabile, trovo infatti che sia bene costruire la tensione per arrivare poi all'esplosione finale molto più carichi e con un approfondimento anche di tutte le parti coinvolte maggiore. Ma andiamo a parlare della trama, dell'aspetto narrativo che è quello che mi interessa di più. Dopo il finale della precedente puntata, che come vi dicevo io ho trovato depotenziato nella resa effettiva, nel pathos effettivo, trovo che questo episodio sia stato molto efficace nel rendere le conseguenze di quell'azione. E queste conseguenze ovviamente hanno anche ampliato la portata dell'azione stessa. Tutto ciò che vediamo infatti in questo episodio non è altro che la reazione di tutte le parti coinvolte. Vediamo Aegon con la sua rabbia, con le sue reazioni istentive, quasi violente. Vediamo Otto che invece non si sofferma nemmeno per un momento sul suo dolore ma invece agisce di strategia cercando di sfruttare la morte di suo nipote a suo vantaggio a prescindere da quale sia la verità dei fatti. Vediamo il senso di colpa di Criston Cole e di Alicent. Entrambi lo nascondono sotto il tappeto, sotto il mantello, sotto le vesti. Entrambi in qualche modo ne escono fortificati, diciamo con qualcosa in più. Banalmente entrambi si sono liberati del gioco di Otto. Otto ormai non è più primo cavaliere, è stato fatto fuori dall'impulsività di Aegon. E la mano del re adesso è Criston Cole che nonostante continui a venire meno al soggioramento, nonostante continui ad essere l'ipocrita peggiore di Westeros, comunque è stato premiato. Questo ovviamente dimostra la poca lungimiranza, la poca saggezza del re che ha scelto di mettere al suo fianco non un fine stratega, ma un uomo molto muscolare, molto violento, che ha dimostrato anche egli di essere inclini a degli scatti di ira non indifferenti, ma soprattutto che agisce anche lui di impulso e non ragionando granché possiamo dirlo. E dall'altra parte vediamo il vantaggio di Alicent che si è finalmente liberato dal gioco di suo padre che sta tornando a casa, che tornerà a casa e lei rimane diciamo un po' la mente dell'operazione visto che insomma le parti coinvolte non è che abbiano tutti questi neuroni in testa. Quella di Aegon ovviamente non è l'unica reazione che vediamo alla morte di Jeris. Vediamo anche il dolore, la distruzione, il disagio della regina Elena, anche qui il senso di colpa ancora una volta. La vediamo estremamente a disagio, estremamente inquieta per quanto riguarda tutta la parte, la parentesi del corteo funebre al quale viene costretta. Ecco, in questo caso ho trovato che la regia sia stata molto raffinata e molto efficace nel farci sentire proprio questo senso di panico che deve provare la regina Elena in quel momento. Ecco, la recitazione è stata un po' meno efficace in questo senso. Purtroppo l'attrice si riconferma non una grande performer. Nell'episodio vediamo anche una piccolissima parentesi, un piccolissimo interscambio tra i due reali, quindi tra Aegon e sua sorella e nonché consorte Elena. Vediamo che lei tenta un contatto con il marito, slash fratello, ma lui la allontana. Ecco, questo probabilmente denota quanto Aegon la ritenga anche responsabile di ciò che è accaduto. E come dicevo, ovviamente vediamo anche il senso di colpa di Alicent, che a un certo punto sembra quasi volersi affogare nell'acqua, e di Christon Cole, che riversa però questo suo senso di colpa, lo allontana, fa quasi finta che non esista, non cerca neanche di ripulirsi per niente la coscienza, ma anzi scarica tutto questo senso di colpa su una delle sue guardie reali, su uno dei due gemelli, Arre e Coerre, che non ricordo mai quale dei due sia dalla parte dei verdi, comunque riversa tutta la sua rabbia, la sua frustrazione nei confronti di Terza. E questo riconferma anche un po' questa impulsività e questa rabbia repressa di Christon Cole, che lui non sfoga quasi mai contro se stesso, l'unica parentesi in cui l'aveva sfogata contro se stesso era stato quanto aveva tentato di togliersi la vita, ma in tutte le altre occasioni tenta di virare tutti i suoi sensi di colpa, la sua rabbia, il suo risentimento, non facendosi un esame di coscienza, ma appunto riversando tutte queste accredini nei confronti di Terzi, di Renier e di Primis, in questo caso di una delle sue guardie. Ma il senso di colpa di Christon Cole e di Alicent non è l'unico senso di colpa che vediamo all'interno di questa puntata, vediamo anche il senso di colpa di Aemond, che arriva addirittura a dirci che si è un po' pentito di ciò che ha fatto al cuginetto, è stato guidato un po' dall'impeto, dall'impulso, quindi ci conferma che non è stato uno sbaglio in sé quello di uccidere il nipote, il cugino, qua con le parentene non si capisce molto bene, vabbè comunque, di uccidere Luke, ma è stato frutto di un istinto del momento, di una rabbia del momento, che evidentemente Vagar, in quanto suo drago, ha percepito e ha secondato. Le conseguenze però di ciò che è accaduto a Jeris non sono solo sui suoi familiari, sulle persone che gli sono intorno, ma anche sui luoghi. Questo mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovato estremamente sottile nel farci sentire la pesantezza di quel momento, quando i servitori ripulivano le stanze, sbaraccavano i suoi giacigli, tutto ciò che riguarda anche il dolore del popolo, il dolore di compartecipazione alla sofferenza dei reali per appunto la morte del principino, ma anche il dolore per le proprie pene. Vediamo appunto la scena in cui c'è una madre, se non mi ricordo male, che dice quello è mio figlio, in riferimento ad uno degli ammazzatopi. Oppure vediamo le piccole pene quotidiane, ad esempio quella del fabbro che aveva chiesto ad Aegon del supporto economico, che però si vede dimenticato dal re e preso da ben altre priorità. In tutti questi aspetti la puntata è come un riverbero di ciò che è accaduto nell'episodio precedente. È come se l'evento di sangue e formaggio fosse stato un sassolino nel lago, e che questa sia la prima onda che si è andata a formare dalla caduta di questo sassolino, che poi ovviamente porterà ad onde ben più grandi in seguito. Le conseguenze però dell'episodio di sangue e formaggio sono non solo sullo schieramento dei verdi, ma si percepiscono anche sullo schieramento dei neri. In questa puntata infatti vediamo concretizzarsi lo scontro, il conflitto e i dissapori che erano stati solo accennati e suggeriti nell'episodio precedente, ovvero quelli tra Daemon e Remira. La regina si conferma essere stata inconsapevole di ciò che è successo, diciamo della strategia per mettere in pratica il suo ordine di uccidere Aemond. Non aveva minimamente idea di quali fosse il piano di Daemon e sicuramente non avallava l'idea di far fuori il nipotino più piccolo. E è inorridita dal fatto che Westeros la ritenga responsabile di questa azione. Quindi questo è stato l'oggetto del contendere tra Daemon e Remira. Lui lo vediamo inquieto, lo vediamo con voglia di mendicarsi, con voglia di conquistare, voglia di fare, e soprattutto lo vediamo stretto nel suo ruolo di re consorte. Lui vorrebbe comandare, tra l'altro il dialogo, lo scontro tra i due è stato molto interessante, sia per le dinamiche fisiche, vediamo Daemon agire con violenza anche nei confronti di Remira, spacca cose, le tira addosso oggetti, le va addosso fisicamente, le va contro fisicamente, quindi agito con violenza da questo punto di vista. Ma è molto interessante anche l'intescambio e le recriminazioni che i due reali si fanno vicendevolmente. Remira infatti in faccia a Daemon di essere stata solo un oggetto per i suoi fini, per i suoi scopi. Gli recrimina di non essere mai al suo fianco in modo del tutto disinteressato, ma che è lì solo per le sue brame di conquista, le sue brame di potere. Dall'altra parte Daemon invece mette in dubbio il ruolo di Remira, dicendo che il padre l'ha usata, che l'ha scelta come erede al trono solo per fare un dispetto a lui, solo per toglierlo di mezzo. E lei invece gli fa notare che Daemon si è fatto fuori da solo dalla pretesa al trono con il suo atteggiamento irruento e inaffidabile. Ecco, la verità secondo me è un po' da ambo le parti ed è stato anche molto interessante vedere quest'altro aspetto di Viserys. Diciamo che per tutta la prima stagione siamo stati portati a credere che Viserys avesse consapevolmente scelto la figlia, che avesse preso una posizione e l'avesse portata avanti perché riteneva fosse quella giusta. Purtroppo, quello che ha detto Daemon in parte credo essere vero. Lei è stata scelta in un primo momento non perché ritenuta l'erede migliore, ma perché forse è l'unica scelta possibile, visto quello che Daemon aveva fatto, appunto aveva preso in giro il figlio morto, appena morto di Viserys. Era l'unica scelta possibile e poi ha mantenuto un po' il punto per evitare tentennamenti e evitare che la pretesa al trono della figlia a quel punto venisse messa in discussione da altri. Ecco, è interessante vedere come gli uomini della vita di Rhaenyra in qualche modo siano sempre stati non totalmente disinteressati in ciò che hanno fatto per lei o con lei, sia Daemon sia anche appunto suo padre Viserys. Se devo fare una piccolissima critica a questo episodio è quella di aver mostrato poco, forse, lo schieramento dei neri rispetto ai verdi. È vero che il centro di potere lo detengono i verdi, che sono loro sul trono di spade, ma essendo appunto una guerra civile vorrei che ci fosse più equilibrio nel mostrarci le due parti. Poi magari semplicemente questo è stato un episodio un po' più incentrato sui verdi e sui neri ci sposteremo negli episodi successivi. Anche perché non abbiamo visto nulla delle strategie in senso più ampio di due schieramenti. A parte qualche linea di dialogo che fa riferimento ai loro sostenitori, ai lord che li sostengono, non ci sono state ancora né battaglie, scaramucce, alleanze vere e proprie, cioè non abbiamo visto nulla che vada al di là della parte di Roccia del Drago per quanto riguarda i neri e della Fortezza Rossa di Aprodo del Re per quanto riguarda i verdi. In questi episodi abbiamo visto ancora una volta un po' di incertezza nell'agire di Rhaenyra dovuta probabilmente sia al fatto che lei comunque è una regina cauta a differenza del suo consorte sia al fatto che in parte è ancora in lutto. Abbiamo visto ancora poco delle strategie dei neri ma in generale abbiamo visto poco delle strategie sullo scacchiere di Westeros di entrambi gli schieramenti. A differenza infatti di quello che si narra nel testo qui hanno distribuito gli eventi in modo diverso. Nel testo quello che accade in questo episodio è frammentato da diverse questioni che accadono in altre zone di Westeros. Ecco qui hanno deciso di disporre gli eventi diversamente si è fatto riferimento ad Arenal e non vedo l'ora appunto di vedere come tratteranno questa parte della storia. In generale questo episodio è abbastanza fedele a quello che vediamo nei libri per quanto riguarda il duello tra Eric e Arric. L'unica differenza in questo caso è stato il coinvolgimento di Misale è stata infatti lei a suggerire dell'infiltrato e a permettere il salvataggio della vita di Rhaenyra. Questo è stato anche un risarcimento per il fatto che Rhaenyra l'ha lasciata andare ha mantenuto la promessa fatta da Daemon. Su Misaria devo dire che c'è un discorso interessante da fare sempre per quanto riguarda la rappresentazione femminile fino adesso abbiamo visto quasi sempre una rappresentazione femminile per quanto sfaccettata però inerente al mondo privilegiato della nobiltà. Nel caso di Misaria invece vediamo nella rappresentazione femminile dei bassi fondi se vogliamo di qualcuno che non aveva niente che si è conquistata tutto attraverso compromessi fatti con il proprio corpo e con la propria morale. È molto interessante il discorso fatto da Misaria che credeva di avere comunque conquistato una fetta di potere ma poi si è resa conto che quando si viene a confrontarsi con degli uomini che il potere ce l'hanno per davvero lei di fatto non viene considerata un contagnente viene comunque trattata come spazzatura e le promesse che le vengono fatte non vengono mai rispettate. Ecco, ancora una volta Rhaenyra si insinua nel sistema e lo cambia perché dimostra a Misaria di agire differentemente da quello che hanno fatto fino adesso gli uomini ai suoi confronti Otto per primo che le ha bruciato casa per ripagarle dell'aiuto e Daemon che appunto non ha mantenuto la promessa di liberarla. Rispetto al duello finale mi è piaciuto sia la messa in scena sia la durata non è stato eccessivamente epico diciamo come scontro ma non doveva neanche esserlo anche nel libro ci sono diverse versioni per quanto riguarda questo scontro hanno fatto un po' un mash up un mix delle varie versioni la differenza più importante in questo caso oltre ovviamente al coinvolgimento di Misaria che nei libri non era presente è il fatto che c'era Rhaenyra in stanza mentre nel caso dei libri non era così anzi non si sapeva nemmeno quale fosse il target sia Rhaenyra o i suoi figli quindi in conclusione episodio che mi è piaciuto ancora una volta un episodio preparatorio non vedo l'ora che si arrivi al dunque però sono contenta che si siano prendendo i loro tempi per mostrarci le reazioni dei personaggi per approfondire un po' questi personaggi in modo tale che possiamo legarci maggiormente a loro prima della disfatta inevitabile rispetto come dicevo prima alle differenze con il libro in questo caso non ce ne sono molte perché appunto i passaggi riportati in questa puntata sono davvero molto brevi la parentesi di Eric e Harry che ve l'ho detto e quali sono le differenze nel libro poi non è mai stato trovato formaggio mentre nella serie lo vediamo appeso quindi l'ha trovato Egon evidentemente anche se non sa che è lui la questione di Otto che viene destituito nel concreto diciamo rispetto alle frasi che vengono dette è identica quasi ma avviene temporalmente in un momento un po' diverso avviene un po' prima rispetto a quello che abbiamo visto nel libro ma in generale come dicevo prima nel libro gli eventi visti in questa puntata sono frammentati da altri eventi che accadono nel continente quindi in questo caso penso che li vedremo invece negli episodi successivi detto questo quindi io sono comunque soddisfatta attendo con grande ansia il terzo episodio adesso tocca a voi fatemi sapere che cosa ne pensate se l'avete visto se vi è piaciuto non vi è piaciuto e perché fatemelo sapere nei commenti io vi leggo sempre quando posso vi rispondo per oggi è tutto noi ci vediamo se fate via i prossimi video ciao